Tra i tanti territori colpiti, oltre alla Valle Roscia, anche della Valle Argentina, Molini di Triora, qui c'è il vice sindaco di Molini che è Danilo Marvaldi, tra l'altro ci sono stati purtroppo anche due lavoratori morti che hanno perso la vita per cercare di ridare vita al vostro territorio, questo è un dramma in più? Sì, questo è un dramma su un dramma, come ho già detto in altre occasioni, diciamo che a fine evento, quando ha smesso di piovere, non eravamo contenti, però eravamo sollevati di non aver avuto vittime, di non aver avuto feriti, io sono stato isolato nel mio comune, non riuscivo a raggiungere il capoluogo, il mio sindaco aveva paura che avessimo avuto delle vittime, invece eravamo sollevati che almeno in questo triste e frangente vittime non avevamo avuto. Invece lunedì pomeriggio ci è arrivata una tegola sulla testa che sono morti due ragazzi giovani, erano due ragazzi di Molini di Triora e più precisamente della mia frazione, di Angaggio Inferiore, abitavano a 50 metri da casa mia, erano due amici, due persone splendide, due ragazzi che non si fermavano davanti a niente quando c'era da lavorare, e soprattutto quando c'era da lavorare per la comunità, stavano cercando di liberare una strada dai detriti e dal legname che questa calamità ci ha lasciato sul territorio. E' una calamità che ha ancora delle conseguenze, Triora ancora isolata, la situazione da voi come adesso, cosa vi siete detti questa mattina, che soluzioni ci sono? Io dopo tanti giorni, questa mattina ho staccato un attimo per venire qua a Imperia, in provincia, per fare il punto della situazione, perché noi le criticità sono ancora, nonostante ormai domani sera sia una settimana che è venuto l'evento, abbiamo ancora la frazione di Gavano isolata completamente che non riusciamo a arrivarci, la frazione di Corte isolata completamente da quella grossa frana che è sulla provinciale, sull'SP52, che stanno cercando la provincia di poter dare almeno un passaggio per un mezzo inferiore ai 35 quintali, per poter almeno accedere alla frazione nostra di Corte e accedere a Triora. Per Triora ha già parlato il sindaco Massimo Di Fazio, che tra l'altro ringrazio pubblicamente perché senza il suo aiuto e senza il suo contributo della sua amministrazione noi in un giorno e mezzo non potremmo aver avuto l'acqua potabile nel comune capoluogo. E qua voglio anche ringraziare Regione Liguria, da Giacomo Gianpedrone a Stefano Vergante, che appena hanno saputo della nostra situazione si sono subito messi in contatto con noi e non mi hanno mai lasciato solo, mi hanno messo a disposizione due tecnici che sono Stefano Repetto e Andrea Musotto, che sono venuti con me, sono stati vicini a me tutti questi giorni e di qualsiasi cosa, dall'acqua ai tubi per portare l'acqua, ai bidoni della spazzatura, sono sempre stati vicini a me per fare i viaggi con l'elicottero. E di questo devo ringraziare appunto Regione Liguria perché senza loro aiuto avremmo avuto criticità ancora più grandi e problemi ancora più grandi. Grazie a tutti.